Valeria, com'è il tuo rapporto con Valentino, visto che tu vesti anche tanto Valentino? Io ho iniziato, essendo Valentino è un mago, uno stilista unico, è un uomo che ha saputo, è un artista della moda. Non seguo molto la moda, però sì, mi piace tantissimo, Valentino è il top, insieme a pochi altri italiani, quindi viva il Made in Italy, assolutamente. Bisogna seguire solo la moda italiana? Grazie.